La prevenzione va fatta utilizzando gli esercizi di Kegel a casa, una riabilitazione domiciliare. Però poi l'importante è la perdita di peso, non fumare, non assumere eccessivamente caffè, tè, coca cola e fare una dieta norma equilibrata, ricca di fibre, di frutta, povera di grassi. Il trattamento è inizialmente comportamentale, poi successivamente il primo cardine nella riabilitazione del pavimento pelvico e in contemporanea o successivamente la terapia farmacologica con farmaci, nel caso dell'incontinenza da vescica iperattiva, farmaci anticolinergici che bloccano quindi la contrazione del detrusore della vescica e quindi riducono il sintomo, urgenza, frequenza e nicturia. Il costo elevato è stato fortunatamente superato dall'uscita in commercio dei generici, in particolare della solifenacina che è un farmaco di punta, io ho fatto numerosi studi su questo farmaco, un farmaco ben accettato ai pazienti, con pochi effetti collaterali e grazie finalmente al fatto che il costo si è ridotto notevolmente circa del 70%, tutti i pazienti potranno finalmente iniziare una terapia per lungo tempo. Grazie